Gangnam Style, com'è? Hai visto? Guardala, eccola! Vai che l'avete trovata! Regia, mandala a base! Ci sei, Regia? Sei bravissima! Brava, Sonia! E' fantastica! La so tutta! No, è fantastica! Passa! Brava! Emanuela Marchio! Io voglio dare un messaggio alla mia amica, collega Emanuela Marchio impara come si fa, impara a danzare, perché questo è il vero ballo, non quello che ha fatto ieri su.